Arriva un nuovo regolamento, un nuovo disegno di legge per quanto riguarda le criptovalute in Italia, quali sono le novità e soprattutto bisogna attendere intanto che questo disegno di legge diventi legge per capire effettivamente cosa verrà implementato e cosa no, però dalle idee che ci sono, ci sono alcune peculiarità che bisogna andare a vedere subito perché soprattutto bitcoin e cripto vengono viste in maniera diversa rispetto alla precedente. Cosa è giusto, cosa non è giusto, un passo avanti, un passo indietro ne parliamo in questo video, un po' non approfonditamente vi dico anche perché, poi c'è la questione legata al fatto che Binance continua a indicare un eventuale recovery fund per i progetti delle criptovalute che secondo loro possono rischiare la crisi di liquidità, recovery fund a un miliardo, loro iniziano poi ovviamente potrebbero aggiungersi altri operatori del mercato, giusto o non giusto? Bitcoin a 12 mila dollari, leggo queste news e ogni tanto viene da ridere un po' analista, analista poi chi? Ovviamente mette in guardia su questa possibilità, ma comunque andiamo a vedere, esiste questa possibilità di arrivare a 12 mila dollari per bitcoin? Ovviamente certo che esiste la possibilità, ma vediamo la probabilità, se è alta o non è alta. E questo invece che è un dato vero, non è un'ipotesi, il per market attuale di bitcoin, come ho pubblicato in un mio tweet questa mattina, è il secondo più lungo dalla storia di bitcoin. Ma quanto è durato il primo più lungo, quello del 2013? Lo vediamo in questo video. Allora ragazzi, prima però di andare avanti, io vi ringrazio intanto per il grande affetto che mi dimostrate sempre con le offerte Black Friday che sono andate a ruba. In pratica tutti i coupon che avevo messo disponibili sono andati a ruba, ne ho aggiunti ieri altri 15 ragazzi, perché semplicemente non è un Black Friday senza uno sconto. Non è, diciamo, mia possibilità eccedere poi su queste cose, perché c'è comunque il team che si occupa di queste cose. Io realizzo i video, però poi non mi occupo di ogni cosa, realizzo diciamo i corsi. Allora, qui ragazzi, nella pagina che vi lascio in descrizione trovate tutte le offerte con la possibilità di utilizzare ancora questo coupon sconto il 10%, finisce tra poco, ma il Team Trending On ha deciso anche di mettere in pausa la vendita dei moduli che sono stati più richiesti in questo Black Friday. Cosa sono questi moduli premium ragazzi? Sono delle lezioni, dei moduli molto approfonditi, molto incentrati su argomenti che io ritengo estremamente validi. Ne ho registrato tre al momento, anzi due, il terzo sta per uscire. Uno riguarda una strategia crypto di spread, che è una strategia adirezionale, che permetteva di fare gain anche quando i mercati erano in trend ribassista. Ed è questo qui ragazzi, il crypto spread trading. Questa è una strategia che è una bomba assoluta, ma adatta a chi è trader, chi non è un neofita, perché un neofita non riesce ad applicare queste strategie con molta facilità. In Academy abbiamo fatto anche un bot su questa strategia, che è un'altra bomba. Purtroppo era attivo su FTX, ora lo stiamo spostando su BitGet ragazzi, perché è dopo il crash. Allora, poi l'altro invece modulo che è quello in offerta con questo Black Friday è questo, la gestione del portafoglio crypto ragazzi. Questo è un modulo cattivissimo, io ve lo dico già da subito, chi di voi lo sta leggendo è un modulo cattivissimo, però è anche un modulo che io ho messo, voluto proprio far mettere in questa offerta del Premium Pack, perché ragazzi, vedete, è allo stesso prezzo proprio il regalo durante il Black Friday questo modulo, perché ragazzi, era importantissimo andare a ragionare per molti di voi su alcune cose. Mi avete già ringraziato in decine di persone perché io ho fatto questo modulo, ma manca un webinar a questo modulo che faremo proprio dopo la fine di questo Black Friday. Quindi la fine di questo Black Friday porta la chiusura di questi moduli che non verranno più venduti, verranno messi in pausa per l'eventuale acquisto e poi riaperti il prossimo anno, perché così possiamo un po' andare a sistemarli un pochino, fare anche gli esercizi e quel che sia, e soprattutto mi premeva fare con voi e con tutti gli iscritti di questa promo un webinar live sulla gestione del portafoglio cripto, come andarlo a creare, cosa dovete andare a guardare, quali sono i dati oggettivi e le cose più importanti, perché secondo me ragazzi è molto importante imparare una cosa del genere prima di un'eventuale fase di ripresa del mercato e quindi mi premeva farlo subito. Vabbè, allora detto questo vi lascio il link in descrizione e mi raccomando approfittate di questa offerta perché come sempre mancano due giorni, poi me le richiedete dopo e soprattutto c'è l'Academy per chi fa i corsi, perché una volta che avete fatto tutte queste fasi formative, ragazzi l'Academy sarà un posto che vi accoglierà un po' come un bel abbraccio di un cuscinone gigante dove troverete un mondo di roba da approfondire e strategie operative che veramente negli ultimi mesi sono stati molto importanti, ragazzi, con il nuovo bot ad fast spread, il nuovo portafoglio che stiamo facendo adesso noi stessi lì e tante strategie tra cui anche la ciclica che è divenuta praticamente centrale nell'Academy, sono molto contento, alcuni trader sono bravissimi ragazzi e anche tutte le mie operazioni di trading che faccio sui vari exchange, insomma le solite cose, l'Academy ovviamente è il cuore pulsante di tutto quello che facciamo perché semplicemente noi siamo lì tutti vicini, vicini, vicini. Partiamo dalla cosa più importante, la principale. Allora, video sulla questione delle tasse, che cosa è cambiato, cosa non è cambiato? Vi dico la mia sostanzialmente. Intanto trovate uno space che ieri abbiamo fatto su Twitter con gli altri ragazzi, cripto tasse, cosa cambia? Abbiamo fatto uno dei primi space, qui c'è stata una discussione, dove è intervenuto Giorgio D'Amico che è uno dei professionisti del settore fiscale delle cripto nel Stato italiano che da sempre comunque abbraccia questo settore, quindi andatevi a vedere questo cripto space, a sentirlo più che altro un podcast, perché abbiamo parlato tanto, dato anche un po' le mie idee generali sulla questione di questa norma, però cosa faremo ragazzi? Aspetteremo che diventerà una legge vera e propria e poi facciamo una super live con Giorgio, al quale ho già chiesto, e lo riportiamo sul canale perché l'avevo già fatto due anni fa, e parliamo effettivamente di tutto quello che è cambiato. Perché non parla prima una cosa del genere? Perché si parla del nulla, perché se un disegno di legge non diventa legge tutto quello che è scritto lì può essere cambiato con lo schiocco di dita, e questo è fondamentale. Però qualche idea che c'è dentro lì, in quel disegno di legge, può essere valutata. Primo punto che a me non è più abitico quello che non è piaciuto proprio, poi scrivetemi anche nei commenti la vostra opinione su questo disegno di legge, diciamo pro e contro. Allora, il primo contro fondamentale, Bitcoin non è più considerato una valuta, neanche le altre cripto, tanto è vero che sparisce il concetto dei 51.000 euro, insomma i famosi 100 milioni delle vecchierire per la dichiarazione della plusvalenza. Perciò anche chi è sotto quella soglia di detenzione deve dichiarare anche l'eventuale plusvalenza. Questo impone anche a piccoli investitori che sono al di sopra di un tetto di 2.000 dollari, perché 2.000 euro, hanno lasciato un tetto di 2.000 euro che però, consentitemi di dire, nel settore delle criptovalute è praticamente insignificante ragazzi, vabbè. Al di là di questo hanno lasciato un limite di 2.000 euro, ma per tutti quelli sopra in pratica c'è da fare dichiarazione con le plusvalenze e tutto il resto, 26, c'è un bacello colossale. Allora, questo non semplifica ma peggiora gravemente questo tipo di settore, dando probabilmente anche un onere eccessivo a chi magari è molto giovane in questo caso, ha magari 25-26 anni, ha quei 5k magari da parte in cripto e non sa che cosa fare, adesso addirittura deve anche dichiarare eventuali plusvalenze, quindi dovrà fare i calcoli o non calcoli. Insomma, questa cosa è un po' così, un po' lascia a desiderare. E poi, un'altra cosa, cambiando il concetto del bitcoin, non una valuta, ma assimilandola a quello che concettualmente sono gli altri asset finanziari, si snatura anche il concetto di bitcoin stesso. Delle cripto si potrebbe parlare, ma bitcoin, nelle sue primi case stati, quindi le sue prime applicazioni, casi d'uso, scusate, nel mondo reale, sta per essere utilizzato come una valuta, come Eplabina a Lugano, come El Salvador, eccetera. Noi lo snaturiamo in questo caso e lo facciamo passare come un asset, non è una cosa complessa. C'è da dire che però, questo disegno di legge, intanto non è ancora passato, appunto ve lo ripeto, quindi parliamo un po' dell'acqua, potrebbe in ogni caso, cioè deve in ogni caso farlo rientrare in una categoria. E questo problema è oggettivo. Perciò, ragazzi, fino a che non si esprime magari l'Europa o gli Stati Uniti in una idea generale di che cosa sono le cripto quali devono entrare in un mondo o nell'altro, è ovvio che magari il legislatore italiano ha deciso di farlo corrispondere a quello che più comunemente viene pensato essere, cioè un asset finanziario. Quindi, insomma, questo ci può stare. Fermo restando che il limite dei 51.000 è sparito, questo significa che si pagheranno più tasse per chi, ovviamente, era sotto quel limite, perché sotto quel limite non pagava le tasse sull'eventuale plusvalenza, lasciando stare che dopo il crash del 2023 non so chi ha le plusvalenza di quelle soggetti che avevano quei bitcoin, però, diciamo, chi ce le ha deve pagare le tasse, anche lì. 26 resta. C'è poi una specie di, alcuni l'hanno definito, mini condono, con il 14% se volete rivalutare le vostre cripto. Questo potrebbe essere molto interessante per chi magari ha bitcoin in quantità industriali comprati a prezzi irrisori nel 2010, magari, e vuole rivalutarli ai prezzi di oggi, prezzi che comunque nel 2023, gennaio-2023, primo gennaio, saranno bassissimi. Quindi anche questa rivalutazione con il famoso pseudo condono, che poi ognuno come lo vuole valutare, colpisce e dà la possibilità solo a pochissimi di essere utilizzato, cioè quelli che avevano bitcoin da prima che valesse 16.000 e qualcosa come vale oggi, e soprattutto rivalutarlo ai prezzi attuali pagando soltanto il 14% può essere un bene, questo è un bene, però, appunto, ragazzi, chi l'ha comprato sotto i 16.000 ha magari necessità di fare una cosa del genere, ma chi l'ha comprato sopra e sta perdendo, cioè che rivaluta c'è? Quindi la stragrande maggioranza delle persone, degli investitori, non potranno suffruire di questo pseudo condono, alcuni chiamano così condono, ma secondo me ci sta. Questo, secondo me, è una cosa corretta, perché bisogna premere un punto di start, no? Con la regolamentazione e dire, vabbè, iniziamo da qui a fare qualcosa, perché è settore nuovo, quindi poi, se no, ci addentriamo nei cavigli. Quindi questa è un'idea giusta, così come l'idea giusta del ravvedimento per chi non l'ha dichiarato nei quadri RV e bla bla bla, con lo 0,5, il 3,5% di imposta. Insomma, questi atteggiamenti, secondo me, sono il lato positivo di una norma che vuole regolamentare un settore. Quindi, da un certo punto di vista, c'è l'intenzione, che invece è una cosa estremamente buona del legislatore, che ha preso in considerazione questo settore. Dall'altro punto di vista, c'è un po' il... nulla di fatto per una specie di tastazione che riguarda il 14, è la valutazione di Bitcoin ai prezzi attuali, che sono bassissimi, perché se eravamo a 70 mila, allora, ok, magari l'avrebbero fatto tutti, no, ragazzi? Però a questi prezzi, ovviamente, tantissime persone sono in loss, quindi non c'è questa problematica. E poi c'è la questione dell'assimilazione di Bitcoin nelle cripto a prodotti finanziari. Questo è una grossa... crea una grossa implicazione, cioè quello che vi dicevo, il discorso delle tasse al 26% praticamente a tutti, perché non c'è il limite delle valute estere. E poi, intanto, è la prima volta che avviene una cosa del genere, che ricordo io, perché nella normativa europea, anche oggi è uscita la normativa sul Belgio, mi pare che non ci sia, cioè di nuovo dicono che non sono security le cripto, e poi c'è la questione dell'imposta di bollo, perché essendo, in questo caso, degli asset finanziari, c'è l'imposta di bollo, come su tutti gli asset finanziari. Attenzione che l'imposta di bollo non è quella che è fissa sul conto sopra i 5 mila, cioè 36 dollari euro all'anno, ma è l'imposta variabile, ragazzi, quindi è sostanziosa, perché nel momento in cui voi avete un investimento, e pagate lo 0,2%, sono 200 euro all'anno su 100 mila di valorizzazione del vostro investimento. Quindi, ovvio che se avete 10 mila dollari non vi cambia niente, però se avete di più, avete per esempio un milione di dollari di criptovalute, e pagate poi 2 mila dollari all'anno di tasse, perché semplicemente li avete. Questo è concettualmente, senza venderli, senza niente, cioè pagare quelle tasse perché li avete, perché non sono più valuta, ma sono considerati a quel punto asset finanziari che voi avete acquistato, c'è l'imposta di bollo. Allora, questo secondo me moltissimi non piacerà, però la legge ha un pro, no, tanti pro e tanti contro, poi ognuno sta a voi un po' giudicare. Vi piace di più? Non vi piace? L'idea che comunque l'Italia ti porta a contestualizzare questa cosa, non è male. Secondo me comunque poi alla fine, nella legge finale, aspetteranno un po' di avere anche risultati a livello europeo, no? In generale, insomma, cercano di fare qualcosa europeo. Beer, ma, beer, ma che beer, no? Perché è quello che bevo io stasera. Adesso la beer market di bitcoin, di questa fase 2021-2022-23, non si sa cosa finisce, to date da identificare, è il più lungo dopo quello del 2013-2015. Questa cosa ci sta, lo avevamo visto un po' tutti, ma vi ho pubblicato questo sul mio Twitter, ragazzi, vi faccio vedere quello che è la struttura, è anche molto simile a quello del 2013-2015, ma se vi ricordate un anno e mezzo fa, quante volte abbiamo detto che questo beer market fosse molto simile al 2013-2015 e, scusate, non il beer market, anche la bull run che aveva fatto nel 2020-2021 era molto simile, no? Ne abbiamo detto diverse volte, quindi ha fatto una beer run simile e un beer market simile, vabbè, allora diciamo questa cosa, diavolo a vedere verograficamente e andiamo a porci questa domanda, ok, ma se è il secondo più lungo, il primo più lungo, quanto è stato lungo e quanto mancherebbe a superare quel beer market lì? Allora, vi faccio vedere questo grafico, che è il grafico di bitcoin sul Brave New Coin Liquid Index di bitcoin, lo trovate con BLX su TradingView, ragazzi, BLX è il Brave New, è questo qui, Brave New Coin Liquid Index for bitcoin, che è molto lungo il nostro storico, quindi io lo uso perché semplicemente ha uno storico molto lungo e vi faccio vedere la struttura dello storico sul week, li vedete, mi fa arrivare fino al 2010. Allora, intanto, a chi di voi sicuramente c'ha lo sguardo abbastanza da ciclo, lo sguardo ciclico, guardate la precisione anche di questa struttura ciclica che bitcoin ha portato avanti dall'ultimo rialzo del 2015, proprio questo famoso beer market che se andiamo a vedere e fino alla fine, nel 2018, di tutta questa fase dell'alving, 1426 giorni e i 1426 giorni sono scaduti qualche giorno fa proprio intorno ai minimi di novembre. Era il motivo per il quale da un sacco di tempo stiamo dicendo, vi sto dicendo, novembre, 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 perché questa ipotesi c'è. Ora, il mercato è totalmente diverso, ci sono tante incongruenze, è ovvio, ragazzi, che al momento i prezzi la fanno da padrone, perciò se non abbiamo un'inversione di prezzo sostanziosa, ovviamente sui mercati, andare a gridare da qui poi iniziamo una nuova fase è prematuro. Però considerarla non costa niente, quindi io intanto la sto considerando, poi da qui andare ad agire, ci sono le mie macchie, i miei trading system, il mio trading plan, tutte le mie strategie, tutto quello che noi facciamo anche in Academy, e quello ci consente di salire su un carro con una probabilità favorevole e riducendo i rischi e questo è quello che continueremo a fare. In ogni caso, se cambiano le mie posizioni, come sapete, vi aggiorno sempre sul canale YouTube. Però, guardate questa similitudine, è evidente da un punto di vista anche di struttura temporale, non di struttura di prezzo, ma temporalmente, siamo praticamente nella stessa e identica barca. questo ciclo che tra le altre cose ha fatto poi il minimo a novembre di Bitcoin, se non fosse per il problema di Ethereum che non ha confermato questa struttura ciclica, potremmo anche attenderci una nuova fase di inizio annuale perché coincide alla perfezione con i 400 o qualcosa giorni che Bitcoin solitamente fa nelle sue fasi. Insomma, ragazzi, è strutturalmente a livello di analisi ciclica molto bello vedere una cosa del genere perché potrebbe darci delle buone speranze, ma potrebbero essere anche false speranze perché vista l'attuale situazione andare a ragionare e dire il passato identico al futuro a me non piace, lo sapete, quindi non farò questa cosa. Andiamo quindi a ragionare sui prezzi, quindi una fase ciclica l'abbiamo vista e c'è, però la questione dei prezzi deve essere assolutamente principale, quindi o i prezzi si invertono o non andiamo da nessuna parte. Attenzione però che giusto per farvi capire nella precedente fase guardate un po' l'eventuale fase poi di inversione dall'ultimo struttura ribassista e il superamento dei massimi che erano stati fatti prima nell'ultimo ciclo ribassista questo qui sono avvenuti guardate bene ragazzi guardate qui solo 499 500 giorni dopo perché ragazzi perché il mercato ha fatto trading range e congestione cioè ha fatto un altro annuale così questo è possibile su bitcoin ragazzi e lo diciamo cioè è possibile che faccia una cosa del genere poi arriva a 12.000 come l'ultima domanda a cui dobbiamo rispondere in questo video lo vediamo però insomma c'era da dire allora qual è stato questo bear market che vedete in viola il bear market 3 2013 2015 andiamo da vedere quanto è durato eccolo qui è abbastanza evidente 2013 nel novembre del 2013 ha fatto il suo massimo da notare come spesso bitcoin è ciclico vedete come va a rispettare alcune logiche perché comunque un po' algoritmico sottostante no è tutto un po' algoritmico il settore cripto e il 2013 ha fatto nuovamente anche il massimo a novembre come nel 2021 adesso poi quanto è durato questa struttura è durata 410 giorni il minimo successivo fu a natale ragazzi scusate dopo natale il gennaio del 2015 vedete facendo ho tirato su vediamo che vi devo rivettere un po' l'indicatore facendo 410 giorni eccolo qui 410 giorni quanto manca attualmente per superare il bear market più lungo della storia di bitcoin a questo bear market qui allora da quando è iniziato quello nostro attuale è iniziato dalla novembre vediamo adesso di beccarlo adesso mi metto così andiamo a vedere di ingrandirci con lo zoom è iniziato qui alla ok qui me lo riporta il 10 novembre su questi prezzi di brave new però in realtà dovrebbe essere un po' diverso sugli altri 10 novembre comunque 210 giorni ragazzi arriviamo in sostanza eccolo qui al 25 di dicembre quindi allora se noi andiamo a fare un minimo successivo al 25 di dicembre l'attuale bear market diventerà il più lungo della storia di bitcoin se invece il minimo fatto a novembre è il minimo dell'attuale ciclo di bear market e non lo tocchiamo più per i prossimi barra anni non sappiamo quando allora sarà il secondo più lungo di bitcoin allora c'è ancora possibilità di andare a toccare i famosi 12.000 dollari di bitcoin andiamo a vedere questa possibilità perché in realtà il 25 dicembre coincide alla perfezione ragazzi con la chiusura di questo attuale ciclo mensile di bitcoin che è iniziato effettivamente proprio a novembre ciò significa che se questo ciclo sarà ribassista appartiene ancora al vecchio bear market e probabilmente ragazzi si va si scende perché questo ciclo dovrebbe essere iniziato teoricamente o qui o qui quindi se è iniziato il 21 va a concludersi il 25 dice è proprio questo mensile che un po' svolge due ruoli ragazzi risponde alla famosa domanda facciamo il rally natalizio di questi dieci giorni a proposito ragazzi rally di natale e brevissimo periodo non è un investimento di medio lungo periodo il rally di natale perché siamo al 25 di novembre un mese è brevissimo periodo mannaggia ragazzi prima di scrivere fesserie su twitter che ci sono state i famosi scrittori su twitter del giorno dopo studiatela qualcosa leggete due pagine vi costa mezz'ora di lavoro e diventate migliori più intelligenti più bravi bravissimi fate milioni di dollari no ovviamente con una pagina però è figo dirlo vabbè comunque brevissimo periodo il rally di natale brevissimo periodo e perché questa cosa qui perché se questo mensile è il primo di una nuova fase c'è il rally di natale se invece è l'ultimo di questo bear market va a superare il famoso bear market storico del 2013 2015 allora non c'è trippa per gatti questo ciclo ragazzi va a fare una cosa così e poi va 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 solo in questo caso i 12.000 sono raggiungibili ed è possibile ragazzi perché ed è possibile proprio che avvenga proprio nel mese di dicembre quindi come sempre due visioni totalmente contrapposte che è normale che sia così tra le altre cose proprio perché si basano su uno punto di snodo questo è un punto di snodo e quindi va valutato e perché 12.000 perché come vedete questa struttura che io vi ho evidenziato qui è una struttura di appoggio è il vero livello di supporto di bitcoin perché questo qui che era il massimo storico della bolla del 2017 ha tenuto vedete i prezzi un pochino poi è stato breccato ma il vero vero livello di supporto ragazzi è proprio questa fase qua perché vi dico questo perché questo livello è stato molto importante per il mercato ha buttato giù bitcoin in un caso e anche un po' nel secondo ma l'ha tenuto giù tantissimo tempo è il tempo che fa la differenza qui siamo infatti stati al di sotto di questo livello di supporto per tantissimi giorni da qui a qui 480 giorni e questo è molto rilevante questa fase era un massimo del bear market ma vedete quando è stata ritoccata è stata bucata in pochissimo tempo nell'arco di un mesetto vedete 34 giorni questo significa che questo livello di supporto era valido ma non validissimo questo invece è il vero livello di supporto quindi qualora questa fase di bear market di bitcoin non sia conclusa e diventi a quel punto la fase più lunga di bear market della storia di bitcoin probabilmente il livello di appoggio sarà intorno ai 12-13 mila dollari è possibile quindi sì è possibile e anche nel brevissimo periodo quindi tutto dipende da questo ciclo mentale ormai l'avete capito ci vediamo settimana prossima per parlare di quello che succederà attenzione lunedì martedì soprattutto martedì su bitcoin vi ho buttato la tippa come si dice dalle mie parti e fate molta attenzione e poi vedremo un po' quello che che succederà fatemi sapere anche cosa ne pensate voi di tutta questa view e se avete preso in considerazione è l'ipotesi che in effetti tanto tempo è passato e magari potremmo giostrarci con una bella para di congestione gigantesca fino al prossimo anno io ci metterei la firma ciao ragazzi grazie a tutti